Gianmarco, tu sei arrivato a Udine in un momento particolare, la squadra era piena di infortuni c'era una partita molto forte, tu in meno di 24 ore sei arrivato e ti hanno buttato nella mischia come ti sei trovato, che impressione hai avuto anche di questa prima partita al Carnera con un sold out e un pubblico meraviglioso per numero e sostegno alla squadra Sì, sicuramente non me l'aspettavo di esordire subito così in fretta, è stato bellissimo perché l'atmosfera era un'atmosfera fantastica, tutte le tifoserie di Udine, di Cividale sono state veramente belle e per l'esordio è stato un esordio un po' inaspettato perché neanch'io pensavo di esordire e la squadra era in emergenza e avevano bisogno del mio aiuto e ho cercato di dare il mio aiuto anche se ero arrivato da poco Come ti sei ambientato? C'è stato questo mini ritiro a Gemona che magari ha agevolato il tuo inserimento nella squadra che ha permesso di creare un po' più di conoscenza con gli altri compagni di squadra conoscevi già qualcuno? Come ti sei trovato? No, mi sono trovato benissimo fin dal primo impatto con tutti i ragazzi il ritiro di Gemona ha testimoniato le sensazioni che ho avuto nei primi due giorni e niente, un bellissimo spogliatoio, un bellissimo gruppo e mi sto trovando molto bene ogni giorno Arriva una trasferta impegnativa, si va a Forlì contro la prima del Girone Rosso una squadra insomma che si è affermata in questo campionato sarà una partita dura, si riparte dal derby con qualche giocatore magari recuperato dagli infortuni però sarà una battaglia Sì, sarà una battaglia, sarà tostissima perché loro comunque sono primi in classifica hanno dimostrato di essere in questo momento forse la squadra più pronta e noi dobbiamo ripartire da quello che abbiamo fatto nel derby cioè avere la stessa cattiveria e voglia di difendere e di giocare tutti insieme e se facciamo questo penso che faremo una buonissima partita Alla prossima!